Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teliblea sul canale 89. Oggi si parlava a livello romano di Salvini della Santa Anche. Intanto parliamo di Salvini, poi della Santa Anche, dobbiamo aspettare altri risultati. Intanto c'era questa mozione di sfiducia per i rapporti che aveva avuto Salvini con la Russia e il Presidente Putin. Io non sono un appassionato di Lega, assolutamente, poi ultimamente col fatto del ponte non mi fa più tanta simpatia. Però devo dire che 3-4 anni fa noi guardavamo alla Russia con grandissimo rispetto, cercavamo addirittura, se ricordate, di cambiare le regole per fare venire i russi in Italia che avevano bisogno del passaporto, perché i russi andavano a Malta senza passaporto. Poi per venire qua non potevano venire e allora facevamo pressioni al Consolato perché i russi avevano i soldi ed era una bellissima cosa avere tutti questi rapporti con i russi. Quando c'è stato il Covid prima dell'invasione scellerata dell'Ucraina, noi abbiamo ringraziato i russi che ci avevano mandato quegli aerei giganteschi con i medici e compagnia bella. E' chiaro, i tempi passano, ma una cosa era come si era 5-7 anni fa, quindi questa emozione di sfiducia non aveva senso secondo me, anche perché nessuno può dire sono ora con Putin quando ha fatto l'invasione, che poi si possa comprendere politicamente tante cose, ma un'invasione sembra un'invasione, non si può in nessun modo disconoscere questo. L'altra cosa, parliamo di ambiente e di agricoltura. Intanto il parco degli Iblei è tornato in auge, oggi c'è stato un incontro a Palermo e non abbiamo notizie. Non sappiamo bene che cosa sia accaduto in questa audizione delle varie associazioni che sono pro parco degli Iblei, ma in verità sono ben poca roba di fronte a tutti quelli che sono contro il parco degli Iblei. Ma perché? Perché il parco degli Iblei, che è stato voluto da alcuni personaggi non meglio identificabili, perché io so bene chi si è ammazzato per farlo vent'anni fa, perché il problema è questo, che sono cose di cui si parla dal 2011, non sono vent'anni, ma sono praticamente 12-13 anni, per una presa di posizione e fu fatto sulla testa di tutti, senza che nessuno potesse dire qualcosa. Addirittura ci sono, per alcuni sindaci, il parco ha una perimetrazione, credo per esempio che sia così a Ragusa, ma in verità poi la perimetrazione è un'altra. Cioè neanche i sindaci sanno quanto è grande dove va a finire. E quindi il fronte del no sembra molto più forte, perché effettivamente ci sono tantissime difficoltà. Ma io dico, piuttosto che pensare al parco degli Iblei, non sarebbe bene pensare alla crisi del mondo dell'agricoltura, che questo parco, attenzione, è riuscito a mantenere intatto, è riuscito a fare un lavoro incredibile, pur pur operando in questi territori i migliori allevatori, li abbiamo qui. E nessuno di questi ha mai distrutto il proprio territorio, anzi, al contrario, ci tiene a farlo diventare sempre migliore. Però gli agricoltori soffrono, ma soffrono e ormai si è arrivati ad un punto quasi irreversibile. E vedrete anche nel nostro telegiornale, parleremo del gioco d'azzardo, siamo nel punto del non ritorno, dall'economia all'allevamento, alla famiglia e poi ad altre cose. Quindi il guai è proprio questo, nessuno è in grado di prendere provvedimenti. Si parla, si fa, è importante la mozione di sfiducia, senza offesa, tanto loro stanno bene e nessuno li vuole smuovere, quello che prendono a un mese, insomma, mentre gli altri invece muoiono di fame. Oggi c'è stato l'intervento all'Assemblea regionale, si è parlato solo di agricoltura, perché tutti hanno voluto dire la loro, però mi sembra che l'intervento di Nello Di Pasquale sia il più pertinente, perché ha detto delle cose reali, ha detto parlate e venite, avete fatto la vostra sceneggiata e ve ne siete andati. Ma abbiamo lasciato qualcosa importante detto da fare? No. Sentiamo qualche minuto dell'intervento di Nello Di Pasquale oggi. Grazie. Grazie.